buongiorno oggi siamo su un altro impianto e questo impianto un po particolare perché questo impianto fa parte di una cerra che cos'è una cerra è una comunità energetica è un insieme di tante persone che hanno sia impianti fotovoltaici sia che non hanno impianti fotovoltaici e si condividono l'energia attraverso la cabina principale che sta posizionata dell'enel e poi verrà creata direttamente questa comunità energetica e da qui nasceranno condivisioni condivisioni di energia cioè c'è chi la produce e la dà agli altri e chi la riceve e la consuma quindi c'è un guadagno sia per l'uno che per l'altro quindi in questo video vi faccio vedere l'installazione e poi cercheremo un po di approfondire sulle cerre questa è uno dei tanti impianti che andremo a installare è uno dei primi quindi andiamo a fare questo e poi continuiamo con altri ecco qui impianto montato andiamo sotto abbiamo messo l'inverter c'è amos e dopo andiamo a collegare il tutto ovviamente è un impianto piccolo sette pennelli anche perché non avevamo tanto posto sul tetto e poi andiamo sotto colleghiamo montiamo e attiviamo in tutto allora eccoci qua siamo tornati in ufficio inviando installato tutto quanto attivato installata anche che l'applicazione adesso vi faccio vedere come è fatta l'applicazione è un impianto molto semplice pannelli ottimizzatori e inverter quindi niente di che non avevamo purtroppo molto spazio sul tetto quindi il l'impianto diciamo che è stato è molto piccolo smart proprio l'abbiamo installato addirittura in un giorno attivato tutto quanto adesso vi faccio vedere tramite l'applicazione che è questa qui l'applicazione va bene questa la conoscete è di Huawei e in pratica qui vi fa vedere la produzione dell'impianto adesso è zero perché non perché non funziona perché è notte è sera e quindi l'impianto non funziona e va in stand by domani mattina appena arrivano le luci solari l'impianto si attiva qui potete vedere l'inverter e questi sono i consumi della casa poi quando l'impianto produrrà energia questo manderà all'inverter la corrente che poi la manderà prima la casa e poi quella in eccesso la manderà alla rete come avete detto questa fa parte di una comunità energetica che stiamo attraverso altre persone che hanno creato questa comunità energetica noi andremo a installare altri impianti per loro poi vi farò vedere nei prossimi video ma adesso impianto installato tutto quanto funzionante e adesso vi spiego un po che cos'è la comunità energetica così nei prossimi video capiremo meglio cosa andrà a fare questa comunità allora come funziona devi immaginare una rete condivisa che può essere creata da un condominio un quartiero una comunità locale che installa un impianto fotovoltaico o altre soluzioni rinnovate l'energia prodotta è utilizzata dagli stessi membri e se c'è il surplus questa può essere immessa nella rete e quindi venduta in questo modo i membri non solo risparmiano ma possono anche guadagnare dalla vendita dell'energia non utilizzata quali sono i vantaggi principali primo il c'è un risparmio economico perché producendo energia insieme si riducono le spese individuali secondo la sostenibilità con le comunità energetiche si diminuisce l'uso di fonti fossili e terzo la sicurezza energetica perché avere una fonte energetica locale ci rende meno dipendenti dalla rete nazionale quindi come creare unirsi a una comunità energetica se sei interessato puoi unirti a una comunità energetica già esistente o avviarne una con altri residenti della tua zona si parte da un formale gruppo di persone interessate e poi si passa all'installazione delle infrastrutture da lì potete beneficiare dei vantaggi e delle agevolazioni fiscali quindi le comunità energetiche rappresentano una piccola e grande rivoluzione per l'autonomia e la sostenibilità e quindi se ne vuoi sapere di più hai bisogno di una consulenza quindi hai la possibilità o vuoi avviare una comunità energetica questa è l'occasione giusta ci sono già tante in italia tante comunità energetiche già avviate quindi tu ti puoi unire direttamente a quella comunità per concludere questo discorso la comunità energetica può essere utile soprattutto per chi produce ma anche per chi non ha la possibilità di installare un impianto fotovoltaico perché può accedere a benefici e può pagare di meno la corrente quindi ci vediamo ai prossimi video mi raccomando lascia un like e iscriviti al canale scrivi commenti quello che vuoi se fai parte già di una comunità energetica scrivilo sotto e vediamo come va e come sta andando ci vediamo ai prossimi video e ai prossimi impaianti per questa comunità energetica ciao ciao